E per il nostro finale un grande avvenimento, il ritorno in Italia dell'Io OMD, Orchestral Manoeuvres in Lodà. Sentiti in sottofondo il successo di quest'estate in assoluto. Enola Gay, che è partito tra l'altro questa canzone proprio da qui, da Disco Ring, la scorsa primavera. E per questo motivo che la Casa Discografica ha scelto Disco Ring per consegnare il disco d'oro di questo successo, Enola Gay, grazie Lisa, a Orchestral Manoeuvres in Lodà. Un grande momento di Disco Ring. Adesso ascoltiamo in anteprima il loro ultimo singolo souvenir, l'Orchestral Manoeuvres in Lodà. Applausi Grazie a tutti. 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 Elisabetta Gianni.